don tonino bello una storia che parla di futuro e la graphic novel edizioni la meridiana e il suo coautore don salvatore leopizzi è in collegamento con noi le grafiche fumetti sono stati realizzati dalla mano di adriano pisanello buongiorno don salvatore benvenuto buongiorno buongiorno a tutti voi allora quando le hanno proposto di collaborare ad un fumetto su don tonino bello qual è stata la sua prima reazione don salvatore è un po di sorpresa perché una è un mondo un genere letterario del quale io sono abbastanza digiuno nel senso che non avevo mai sperimentato ecco la scrivere testi per un graphic novel ma avendo la richiesta è stata è venuta insomma pervenuta dal fratello di don tonino come si fa a dire di no allora ho detto vabbè ci provo vediamo un poste se posso essere utile anche per quest'opera che adriano pisanello il fumettista stava già mettendo in atto proprio con la sua arte dove solo avere l'aiuto per elaborare un po i testi e così mi sono cimentato e questa avventura a me ha colpito molto leggendo questo questo testo don salvatore davvero la non solo la chiarezza che viene ovviamente anche dal magistero di don tonino che non ha bisogno ovviamente di essere interpretato in alcun modo perché è davvero limpido e cristallino ma davvero anche il fatto che le frasi siano così corte che aiutano il lettore ad entrare immediatamente in contatto con quella che è stata la vita stessa di don tonino tra l'altro poi questo questa forma d'arte della graphic novel è una forma d'arte che parla al giovanile potremmo dire quindi potremmo anche dire che l'intento è quello di parlare non solo al futuro al presente ma anche ai giovani sì infatti i destinatari principali secondo le nostre intenzioni erano proprio i più giovani o comunque coloro che di don tonino sanno poco o nulla e proprio nel trentesimo anniversario del dies natalis della scomparsa cioè di don tonino abbiamo avuto questa idea di voler trasmettere ai più giovani anche l'incandescente testimonianza di quest'uomo di fede ma di questo grande uomo prima nella sua umanità diciamo poi nella sua fede nella sua profezia nella sua testimonianza forte di amore ai poveri di amore alla pace di una chiesa che si apre ecco anche alle aspettative dei più giovani dei ragazzi e quindi l'intento era proprio quello di comunicare in modo semplice e efficace per un primo incontro ecco io penso che uno degli obiettivi del graphic novel è proprio quello di suscitare curiosità interesse per poi leggere i testi e approfondire ulteriormente lo spessore umano teologico spirituale culturale e profetico ovviamente di questo grande uomo del nostro tempo e della nostra terra lei nell'introduzione don salvatore ha anche raccontato di aver spesso scritto e pubblicato pensieri riflessioni ricordi legati alla figura la testimonianza luminosa di don tonino bello vi ha legati anche una preziosa amicizia ci vuole raccontare qualcosa prendo i cassetti dei suoi ricordi legati a don tonino bello anche solo un ricordo che porta nel cuore sì per me è stato un dono prezioso per la mia vita anche per il mio impegno sia di fede che di sagerdote di parroco ma anche di persona amante della della pace della costruzione di un'umanità secondo quella sogno di isaia che che don tonino stesso spesso ci comunicava ecco un mondo dove non ci siano più le guerre non ci siano più le armi ma il dialogo l'incontro tra le persone il valore di ogni singola persona e questo me lo ha testimoniato don tonino proprio nella sua schiettezza di umanità semplice conviviale fraterna e io ho avuto l'impressione stando vicino a don tonino di essere davvero sempre vicino a un roveto ardente cioè a un fuoco che arde perché dentro gli ardevano queste passioni che era la passione per l'uomo la passione per dio per il vangelo per gesù cristo per la pace erano passioni che lui poi ha sintetizzato sia nella sua opera di pastore di vescovo prima di prete ovviamente poi di vescovo ma anche nella sua opera poi di profeta di pace di testimone ma non solo le parole con l'insegnamento io poi notavo una coerenza profonda tra il don tonino pubblico il don tonino che scriveva pubblicava discorsi lettere interventi di vario genere e omelie e di e il don tonino privato ho avuto questo privilegio di vedere davvero una l'unità e la coerenza di una persona che anche nel privato viveva quelle grandi idealità cioè la presenza di una persona per lui era veramente dare tutta l'attenzione tutta l'importanza tutta anche all'ultimo che bussava dal suo alla sua casa all'ultimo il povero lo straccione il barbone ecco per lui erano l'icona di cristo l'immagine veramente della qualche volta io gli suggerivo pure di essere un po più prudente quando mi trovavo in casa sua al mattino presto sentivo il campanello così ma chi è a quest'ora don tonino dicevo io che bussa la tua porta no sai è una persona che a quest'ora sa che non trova gente che magari vuole un aiuto non ha da sfamare oggi da da la propria famiglia è uscito da poco dalla dal dal carcere io gli dicevo ma potrebbe potrebbe venire anche un altro momento a alla caritas lo puoi indirizzare no va bene ma non è la stessa cosa e il mio suggerimento a volte era anche come dicevo no prudenziale sai ma poi possono prenderti anche in giro sanno che tu che tu sei buono che non mandi indietro nessuno magari e approfittano di te della tua bontà della tua carità si va bene su dieci che vengono a bussare 9 possono anche ingannarmi ma uno magari ha veramente bisogno del mio aiuto e come faccio a distinguere però preferisco correre il rischio di essere anche magari un po ingannato preso in giro ma va bene così per me è importante non mandare indietro gesù cristo che bussa la mia porta senta don salvatore mentre parlava mi veniva in mente una delle scene del graphic novel quando alcuni giovani li rubano la macchina giusto la 500 certo lui poi riceve in episcopio e li perdone insomma perché i ladri non sapevano effettivamente di star di stare rubando la macchina del vescovo e per lui era importante appunto recuperare la relazione umana dando una prospettiva diversa era una delle sue convinzioni che l'uomo non va giudicato per i suoi gesti per i suoi atti ma in prospettiva per quello che di buono potrà fare nonostante anche gli errori commessi e allora quello fu una delle occasioni in cui mise in pratica davvero questa grande fiducia nell'umanità ecco la fiducia era la base poi di tutti gli interventi di don tonino non ci spiegheremmo altrimenti come la sua lotta contro le violenze le guerre le armi la produzione del commercio delle armi e le guerre di ogni genere nascevano proprio da questa fiducia di fondo che l'uomo e si può manifestare nella sua cattiveria nella sua aggressività ma può anche far emergere da sé il lato più bello il lato più nobile della sua dignità e come credente poi ecco essendo un cristiano convinto diceva ma siamo tutti figli di dio allora abbiamo la vocazione di vivere la fraternità a livello personale ma anche a livello planetario universale questa era la grande visione utopica di don tonino anzi lui la chiamava e utopica l'eutopia e la terra bella e buona come l'ha sognata dio e come ce l'ha affidata un inedito duetto il graphic novel adriano pisanello e don salvatore leopizzi che ha scritto i testi per questo appunto libro questa graphic novel intitolata don tonino bello una storia che parla di futuro 580 disegni realizzati in nove mesi e 22 giorni scrive così nella presentazione adriano pisanello che ringraziamo ci ha raccontato di non essere molto a suo agio davanti alle telecamere nei collegamenti skype quindi ha detto fatelo con don salvatore che sicuramente saprà raccontare meglio di me questo questo fumetto e quindi come dire a parlare sono le sue parole don salvatore a parlare sono anche i fumetti di adriano pisanello che ringraziamo ringraziamo anche lei per averci dedicato il suo tempo davvero grazie di cuore per questa bellissima testimonianza che ci ha voluto regalare stamattina grazie grazie auguri buon lavoro anche a voi grazie grazie a don salvatore leopizzi noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme